La struttura importante è una struttura di RSA per un malattia di defenze, un problema di neurocognitive, attesa come ha detto bene lei da 17 anni, ma soprattutto l'attenzione che in quest'anno un giorno già sta mettendo in atto con quelle che sono le realtà importanti per dare quell'assistenza respirativa di quei pazienti che vengono dimessi dall'ospedale hanno un risultato, come questa realtà che è un MSA con 25 posti dedicati, che stiamo aprendo tanti altri nella nostra regione, a fianco alla propiettura delle case di comunità e delle ospitali di comunità. Senz'anno questi posti letto serviranno di dare approvvivenza da un punto di vista clinico, ma anche per ridurre poi due posti che purtroppo ci sono ancora in attenzione. Grazie.